Buongiorno a voi, benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute e Risveglio, iniziamo insieme la giornata. Bene, care amiche e cari amici, dopo il ginocchio della lavandaia, il gomito del tennis, dovete sapere che arriva anche il mignolo dello smartphone. E allora abbiamo invitato oggi a Obiettivo Salute e Risveglio la dottoressa Simonetta Odella, che è responsabile dell'unità semplice di patologia elettiva della mano al Gaetano Pini di Milano e sicuramente ci può dare una mano a capire di che cosa si tratta questa new entry, questo mignolo da smartphone. Dottoressa Odella, bentornata, grazie per essere con noi. Nicoletta, buongiorno e grazie per l'invito, è sempre un piacere. Grazie, allora intanto iniziamo a guardare il nostro mignolo, questo mignolo da smartphone, porti il nostro mignolo ad avere una deviazione rispetto alla sua posizione naturale, ma poi si presenta anche una sorta di piccola fossetta, un avvallamento sulla falange intermedia, è corretto la descrizione dottoressa Odella? Io sono mancina, quindi dovrei guardare il mio mignolo sinistro. Sì, certo, perché effettivamente questi nuovi dispositivi che abbiamo, smartphone sempre più grandi con dei monitor meravigliosi, ma anche il tablet, le cose che cosiamo tutti i giorni, ci costringono ad usare la mano in un modo forse un po' diverso rispetto a come facevamo un po' di anni fa. Effettivamente anche il mignolo è un dito che è più sollecitato, anche se devo dire che i pollici, indice e mignolo sono sempre molto utili per afferrare in generale gli oggetti, quindi sono dita quotidianamente sollecitate nei nostri gesti di tutti i giorni. Lo smartphone, insomma, lo sottopone ad un ulteriore stress, ma così è come anche il pollice e l'indice. Il problema è che tendiamo ad usare questi oggetti con una mano sola. Siamo sempre abituati a fare tante cose contemporaneamente e quindi magari teniamo una mano sulla tastiera o sul mouse e con l'altra invece controlliamo il cellulare. Certo, questo lo facciamo ormai tutti frequentemente, lo sappiamo. Ma, dottoressa Della, questo mignolo che è così piccolo, è il più piccolo delle dita della nana, ma abbastanza tosto, quanto può rischiare? Ma rischia in realtà quanto rischiano le altre dita lunghe della mano, rischia già un po' meno del pollice, che sappiamo che è l'unico dito che può permetterci l'opposizione e quindi di afferrare gli oggetti. Il mignolo, come le altre dita lunghe, anche lui se sollecitato può andare incontro a delle tendiniti, per esempio, perché i tendini, se sono sollecitati eccessivamente, nel lungo tempo possono un po' infiammarsi e possono avere prima un po' di dolore e poi possono far fatica a scorrere fino ad arrivare ad avere quelle che noi chiamiamo dita a scatto. Quindi, dottoressa, il consiglio è, guardate e osservate le vostre dita, partite dal mignolo, se il mignolo ha cambiato un po', sta deviando dalla sua posizione naturale, presenta un avvallamento, una fossetta, provate a usare l'altra mano o entrambe le mani. Questo è un segnale, no? Per utilizzare... Sì, ma al di là della fossetta la nostra guida è sempre il dolore. Quando noi cominciamo ad avere dolore, vediamo che il dito fa un po' fatica a fare tutto l'arco di movimento per aprirsi e chiudersi e che magari ha un piccolo scatto, dobbiamo pensare che c'è effettivamente forse un sovraccarico funzionale a carico di questo dito. Eh, dottoressa Odella, di solito il mignolo si lamenta poco, invece il pollice, non solo per lo smartphone, spesso duole. Noi abbiamo parlato con lei in diverse occasioni dei disturbi che possono interessare le mani e devo dire che da quanto abbiamo sentito sembra che ci siano dei disturbi più tipicamente femminili e altri che colpiscono entrambe i generi. Ad esempio il larizoartrosi e quindi questo dolore che si avverta alla base del pollice predilige le donne. È vero, predilige noi donne e ancora una volta ci predilige nel passaggio alla menopausa. È un momento per noi delicato, le mani sono uno strumento per noi prezioso perché lo usiamo nella nostra attività lavorativa fuori casa e le usiamo tante in casa. E abbiamo questa articolazione che è la trapezio mitacarpale che è quella che ci consente di opporre il pollice alle altre dita, come dicevamo prima. Questa articolazione è un po' in ritardo con lo sviluppo, se così possiamo dire. Siamo in fase di sviluppo da millenni ma questa articolazione non è ancora perfetta e quindi nel muoversi, nel fare i nostri gesti quotidiani si usura più velocemente delle altre. E quindi viene un'artrosi che è parecchio dolorosa e limitante perché una volta che si sviluppa facciamo fatica ad aprire le bottiglie, i barattoli, ad aprire casa con le chiavi in mano. È molto molto dolorosa e quindi devo dire che è un disturbo abbastanza invalidante. Come si interviene? Ci sono delle buone notizie per i pollici delle amiche che ci stanno ascoltando e che si ritrovano descritte in questo profilo? Abbiamo ottime notizie, innanzitutto se interveniamo… Noi sempre buone notizie, se si interviene nei tempi giusti. Esatto, se interveniamo nei tempi giusti riusciamo un po' ad arginare il problema. Certo non riusciamo a bloccarlo perché l'artrosi altro non è che un invecchiamento fisiologico, brutta parola, ma purtroppo reale. Quindi non possiamo bloccare l'invecchiamento, però lo possiamo contenere, lo possiamo rallentare, possiamo controllare il dolore. Le fasi iniziali sono quelle più dolorose perché l'articolazione è ancora ben congruente, non è deforme, si muove molto bene, quindi ci permette un arco di movimento ampio che però diventa doloroso. Paradossalmente più invecchiamo, più l'articolazione si irrigidisce e muovendosi di meno abbiamo meno dolore. Per cui potremmo avere quasi un'evoluzione spontanea verso il miglioramento, ma ci vogliono tantissimi anni. La buona notizia è che abbiamo delle buone terapie. Se abbiamo un'articolazione un po' lassa che fa sì che si muove in un modo adeguato, possiamo fare della buona fisioterapia che aiuta a stabilizzare l'articolazione e quindi riusciamo a stare meglio. Se invece abbiamo un'iniziale degenerazione della cartilagine, quindi un principio di artrosi, possiamo fare delle infiltrazioni con l'acido ialuronico che funziona molto bene. Adesso abbiamo degli acidi ialuronici dedicati proprio a queste piccole articolazioni, se ne fanno solo due e di solito per un anno si sta poi bene. Quindi questa sicuramente è una buona soluzione. Dottoressa Odella, c'è un altro disturbo abbastanza frequente che interessa di preferenza agli uomini ed è la sindrome di Dupuitren. Dupuitren. Il palmo in qualche modo si accartoccia? Sì, è proprio così in effetti. Si accartoccia, non l'ho mai detto ma rende molto bene l'idea, devo dire la verità. Il morbo di Dupuitren, sì, è una bellissima definizione. Il morbo di Dupuitren non è che una proliferazione aumentata delle cellule sottocutanee che prima formano dei piccoli noduli, si palpano come delle palline sotto la cute, di solito non sono dolorose. Mano a mano che la patologia progredisce confluiscono e formano dei cordoni che sono retraenti, per cui tendono, come lei dice, a cartocciare e a piegare le dita della mano verso il palmo. Quindi agli amici che ci stanno ascoltando, invitiamo ad aprire la mano con il palmo rivolto verso l'alto e a sentire un po' con le dita dell'altra mano, un po' là, ispezionare il palmo della mano. Sì, un altro buon test è se si sentono questi noduli al di sotto della cute, provare ad appoggiare il palmo della mano al tavolo. Finché riusciamo ad estendere bene le dita, ad avere un buon contatto col tavolo, la patologia non è da trattare. Nel momento in cui dovessimo vedere che non riusciamo più a farlo è bene recarsi da uno specialista e questa patologia però va operata, perché se no si arriva poi ad avere appunto le dita talmente chiuse che diventa difficile da trattare. Quindi l'intervento è questa la soluzione, non ci sono altre strade? Noi diciamo che all'inizio facciamo wait and see, stiamo a vedere come evolve la patologia, perché non sempre ha un andamento veloce, ci sono dei casi in cui per anni rimangono dei noduli e non si arriva mai al trattamento chirurgico. Serve fare una specie di stretching? Sì, un po' di stretching in estensione per mantenere l'elasticità serve assolutamente. Quindi ecco, vero, si appoggiano i palmi delle mani al tavolo e si cerca di un po' allungare, vero? Anche Carmelo me lo sta suggerendo. Allora, però anche se si dovesse operare, possiamo ancora una volta ricordare, come lei ci ha detto in tante occasioni, che la chirurgia della mano è sempre più gentile. Quindi non veniamo mai volentieri da voi, il chirurghi, lì, però nel caso sappiamo che la chirurgia è sempre più gentile, rispettosa e quindi ci permette di ripristinare la funzionalità e la funzione della nostra mano. Dottoresso Della, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a lei, buonissima, grazie. Grazie, grazie.